Allora Giuliano, come ti sembra? Ti sei già sistemato? Ti trovi a tuo agio qui dentro? Sì, Eren, non è male, wiff. Ti sei proprio sistemato bene in mia assenza, wiff. Com'è che solo quando sei con me viviamo in case pidocchiose, wiff? Ma dai, sei appena ritornato e già ti lamenti. Finora abbiamo vissuto in case pidocchiose, ma adesso abbiamo una fottuta nave. E c'è un Trent là fuori che mi guarda malissimo. Oh Giuliano, li dovevi vedere i pirati come si dimenavano quando li ho cacciati via dalla loro casa. E ora questa nave è un perfetto alloggio per noi due. Se ancora non sei sorpreso, scendi, devi vedere il magazzino. E quindi ragazzi, siamo tornati finalmente nell'overworld dopo questa lunghissima missione nella Twilight Forest. Giuliano è stato salvato e si sta per spaccare le gambe e uccidere da solo. Comunque lo sto portando nel magazzino per fargli vedere come ho sistemato qui tra una puntata e l'altra. Sono riuscito a mettere finalmente questi scaffali. E il loro senso è semplice. Per esempio, qui in alto a sinistra abbiamo l'anguria. L'anguria rappresenta il cibo che verrà tenuto qui. Qui abbiamo i minerali e qui dentro ci saranno i minerali. Perché c'è lo smeraldo, non i minerali. Viceversa, dall'altra parte si guarda qui a sinistra. Quindi blocchi, drop, eccetera, eccetera. È un po' confusionario forse, però esteticamente mi piace molto caratterizzare le ceste in questo modo, diciamo. E tu Giuliano cosa ne pensi del mio magazzino? Beh, diciamo che avrei preferito del legno di quercia scura, wiff. Però si sa che non hai un gran gusto, quindi non mi voglio lamentare. Wiff. Ehi, chi non avrebbe un gran gusto? E poi volevo mettere la quercia scura, però non ci sono foreste nell'arco di... Boh, nell'arco di un sacco di spazio in realtà. Sono dovuto ricadere sullo spruce, ma ti giuro che la volevo anche io la quercia scura. Aaron, guarda che se guardi bene, wiff, mi era perso di aver visto una foresta di quercia scura, wiff. Nah, impossibile, non ne ho visto nessuna. Ti dico di sì. Magari vai sull'albero maestro e provi a dare un occhiato da lì, wiff. E va bene, Giuliano, tu resta qui. Mi raccomando, stai nel magazzino che già ti sei fatto male con le scale. Io vado a vedere dall'albero maestro. Boh, secondo me non c'è assolutamente nulla. Avevamo già controllato. E nei dintorni non si è vista nessuna foresta di quercia scura, assolutamente. Penso che, purtroppo, nelle vicinanze non ce ne siano. Quindi manterrò lo spruce, che comunque non è la quercia scura, però è scuro anch'esso. E un pochino ci stava per fare il contrasto. Comunque, no. Io direi che non c'è nessuna dark oak forest nelle vicinanze. Però devo ammettere che c'è una bella luna stanotte. Mi piace un sacco scrutare lo spazio dalla sommità del mio albero maestro. Mi piace davvero tantissimo. Ehi, ma aspetta un attimo. A parte che c'è uno scorpione rosso sulle tende della mia nave, non capisco il motivo. Ma che cos'è quell'oggetto là in cielo? Ehi, sta scendendo qualcosa, è un meteorite! Un meteorite in diretta! Oh, merda, si è schiantato nella foresta. Devo andare subito a spegnere, sennò farò un casino. E ogni tanto ne combina uno giusto, Giuliano. Mi ha mandato là sopra a vedere chissà che cosa, quale foresta. E tra l'altro sono quasi morto. Gli danno da caduta. E cade un meteorite nella foresta qua dietro. Che non è una dark oak forest, ma è una foresta che vorrei comunque salvaguardare. Perché se qui va a fuoco tutto è un casino, eccolo. Eh, oddio, ma questo meteorite si è fermato a mezz'aria. È un meteorite decisamente strano. Il fuoco si è già praticamente spento. Cazzo, ci sono delle fiamme lì, però. Occhio, perché se attacca tutta la foresta è davvero la fine qui, ragazzi. Dovrei aver spento tutto, suppongo. E sì, c'è qualcosa... No, quello è uno scheletro che muore. Quindi aiutiamola nella sua impresa nel crepare. Ok, boom, dall'alto. Mi ha anche sbloccato un party hard. Party hard tonight, ragazzi. Comunque, cioè, t'ho visto. Vabbè, ti lascio lì. Stai pure lì all'ombra, non mi interessi. Questo meteorite è davvero bizzarro. Innanzitutto ci sono dei blocchi... C'è dell'acqua. Perché c'è dell'acqua? C'è della glowstone. Ci sono la frisarite. Freezing cold. È bruciata. Temo di aver fatto una cagata. E poi questa fallen meteor che è ancora calda, quanto pare. E se è tutta calda, perché c'è dell'acqua nella meteorite? Sai che non capisco il senso di tutto ciò, in realtà. E c'è una ceste? What? Ci ho trovato anche della cracknorite. Che non so cosa sia. Sono tutti materiali alieni provenienti dallo spazio. Va bene. Forse non è neanche troppo il caso di minare l'intera struttura. Ora che sta andando a fuoco. Potrei giusto prendere questo. Perché è sotto, quindi non dropperà sul blocco. Perché se mi droppa sul blocco... Ecco, ho fatto la cazzata, vero? Sì, li ho bruciati tutti. Bene, GG. Oddio, c'è ancora uno di quei blocchi blu. Se sto attento, magari non lo facciamo bruciare anche questo, possibilmente. Ok, tutto attorno si è raffreddato. Quindi, in teoria, quest'acqua dà davvero fastidio. Possiamo toglierla gentilmente. Fa un attimo così. Ce l'avevo già della terra, ma fa niente. E boom, toglie la sorgente d'acqua che dà troppo fastidio. Dov'è il blocco bianco? C'era un altro blocco bianco qui. È scomparso. Ah, si è sciolto! Oddio, lo dovevo minare prima di... No, lo dovevo minare prima che si sciogliesse. Che casino! Ce ne erano tre di quei materiali preziosi. Due li ho bruciati e uno si è sciolto. Sono davvero un genio. Vabbè, c'è un tesoro nella meteorite. Quindi vediamo un po'. Allora, abbiamo un piccone di frisarite. E penso sia quel materiale lì che si è sciolto e aumenta la velocità di mining sott'acqua. Interessante. Poi, crecnorite helmet. Immunità al fuoco. Ok. Frisarite crystal. Questo è quello che ho bruciato, forse. Freeze time 1600. No, non lo so. Gemma di una meteora rossa. Ce ne sono un po'. Chocolate ice cream. Del gelato. E poi un libro che non so se contiene qualcosa. Ma davvero c'era del gelato qui dentro? Ma lo posso mangiare il gelato di meteorite? Così, per capirci. A quanto pare sì. E non mi fa neanche troppo male. Ho appena mangiato un gelato che è sceso dallo spazio. Ma vediamo un po' questo libro. Vabbè, che... Ah, c'è scritto qualcosa. Spero che questo messaggio arrivi a te, Eren. Sono bloccato qui. La mia navicella si è rotta. Era tutto un trucco. Non ci sono funghetti su Marte. Qualcuno venga a prendermi. Firmato? Gianfatto. Ma che sta succedendo? Prima Giuliano ha rapito. E ora un messaggio dallo spazio da parte di Gianfatto? Devo subito vederci chiaro. Non mi piace questa cosa. Quindi è questo che c'era scritto. Non lo so, Eren. Questa faccenda mi puzza un sacco. Lo so, anche a me. Però, pensaci. Quando hanno rapito te, ho ricevuto un messaggio e... Di primo acchito ho pensato ad una trappola. Effettivamente era una trappola. Ma tu eri veramente stato rapito. E se non fossi mai arrivato, saresti morto in qualche cella segreta nella Twilight Forest. E quindi che cosa intendi fare, Wiff? Il messaggio lascia intendere che Gianfatto sia bloccato su Marte. Ma come ci è arrivato quel gattaccio, Wiff? Ma vorresti costruirti un razzo per arrivare fin lassù, Wiff? Ah, questo è un grosso problema, vero? Al momento non ne so craftare uno. Ma conosco un macchinario che ci potrebbe aiutare a farlo. E secondo me, ci dobbiamo quantomeno provare. Ok, ragazzi. La faccenda è abbastanza seria. Questo messaggio, non lo so, mi dovrei fidare, non mi dovrei fidare. Qualcosa mi dice che io mi dovrei fidare. Come ho fatto già l'altra volta. E nel mentre svuoto ignorantemente le ceste. Perché effettivamente ho prestabilito un ordine, ma ancora non lo sto rispettando per nulla. Mi chiedo, quanti minerali della Galacticraft io ho in questo momento. Abbiamo delle... No, il Silverium non c'entra. Il Copper non è quello della Galacticraft. Vediamo in questa ceste che cosa abbiamo. Nulla interessante. Probabilmente ho qualcosa nelle ceste di sopra. Con la Galacticraft, se non lo sapete, possiamo craftarci in un modo abbastanza complicato un razzo. E con esso possiamo volare fino allo spazio. Certo, lo spazio non ha ossigeno. Avremo bisogno di una tuta. Avremo bisogno di... Vari viveri per sopravvivere. Ma se Gianfatto è davvero là fuori, non possiamo abbandonarlo nelle grinfie dello spazio. Questo assolutamente. Quindi, vediamo un po'. Stiamo dicendo... Lithium, ferro... Non vedo così ad occhio i minerali della Galacticraft. Mi sa che non li ho mai spostati dal... Ok, abbiamo del silicone, però. Però del resto non li ho mai spostati dal luogo in cui li tenevo all'inizio. Questo è un grossissimo problema. Devo anche svuotare queste ceste. E poi converrà ad andare subito in miniera a cercare i materiali che ci servono. Altrimenti... Altrimenti Gianfatto è spacciato. Ok, quindi... Quindi è deciso. Devo trovarmi una sorta di caverna e adentrarmi subito nel sottosuolo. Ho bisogno di trovare i minerali che mi servono. A partire dall'alluminio, dal rame e il silicone, già ne ho un po'. Adesso non so quante cose mi serviranno. Qui c'è un'altra meteorite. Forse Gianfatto ha tentato di mandarci altri messaggi. Ora che ci penso... Oddio, è tutta la serie che piovono meteoriti. Se fosse sempre Gianfatto che ha cercato di farci sapere qualcosa di lui. Sarebbe terribile aver aspettato così tanto. Ok, questa caverna, stavo dicendo foresta, non so perché, mi sembra perfetta. Qui c'è già del rame e direi di iniziare a prenderlo. Ora, non so con precisione quali minerali mi serviranno. Vediamo, ci servirà questo oggetto per craftare ciò che ci serve. Ci permetterà di sommare varie parti di veicolo. E per farlo mi servirà l'acciaio compresso e quindi il ferro compresso. E il ferro direi che ce l'abbiamo. Però per il resto mi servirà questo advanced buffer che si crafta dal circuit fabricator. Ci serve il silicone e ci servirà appunto questo fabricator. Quindi andiamo a vedere. Circuit fabricator, eccolo qui. Sì, aspettate un attimo prima che faccio casino con la notina Fittems. Mi serve l'alluminio per l'appunto e gli aluminium wire, i quali richiedono altro alluminio. Perfetto. Poi ovviamente verrà il rocket. Il rocket non sarà semplice neanche quello. Perché avremo bisogno di un rocket innanzitutto di tier 1. Ok, tipo questo qui. Quindi avremo bisogno del noscon, di questi pezzi che si ottengono dal bronzo e quindi dal rame e allo stagno. Mio Dio, ragazzi, dobbiamo prendere davvero troppa roba. Questa è la traduzione. Per cui, per cui, per cui scendiamo. Non volevo scendere così, merda. A quanto pare qui c'è qualcosa. Ci sono anche dei ragni velenosi, a quanto pare. Mannaggia voi. Via, muori. Da dove è sceso quel dannato ragno? Comunque sì, qui c'è qualcosa. Ed è l'alluminio per l'appunto. Minerale che ci serve assolutamente. Quindi iniziamo a prenderlo e ce n'è anche un bel po'. Questi minerali non sono rari. Sono comuni e nascono in venature molto, molto ampie. Almeno, non così tanto ampie. Però diciamo al pari del ferro. Quindi non dovrebbe essere un grosso problema trovarli. Il problema sarà poi craftare il tutto. E sarà che appunto me ne serve in una buona quantità. Qui c'è altro alluminio intanto. E ce lo prendiamo assolutamente. Il rame. Il rame ne ho già preso un po'. Potrebbe servirmene dell'altro. E mio Dio, che cosa cazzo era quella merda? Terracotta si chiamava. Ma che è, ragazzi? Mi ha fatto cagare in mano quel mostro. Cosa si nasconde in queste dannate caverne? Oh, mamma mia. Allora, stavo per minare del rame. E continuo a sentire ragni, innanzitutto. Perché? Basta. Che stress. Qui dentro cosa c'è? Carbone. Il carbone fa sempre comodo. Però per il momento non è la nostra priorità. Ci serve, invece, assolutamente del ferro. E non so cos'altro, in realtà. Vediamo. Devo ricercare un attimo il rocket. Il rocket utilizza tutti questi strani pezzi. Oddio, guardate questi. Mamma mia, ragazzi. Non ne usciremo più da questo crafting. Allora, di base ci serve il bronzo. Quindi il rame. Il ferro. No, l'alluminio. E lo stagno. Questo è lo stagno, perfetto. L'alluminio, ok. E questo che cos'è? L'acciaio. Con il ferro. Lo facciamo e il carbone. Quindi, al di là dell'alluminio e il ferro, ci servirà anche lo stagno. Che per il momento non ho trovato, ma che io ricordo in passato di avere raccolto. Uh, del diamante anche. Figo. Il problema è che non l'ho portato con me. C'è anche dell'ametista. Molto, molto bene. Ok, togliamo un po' di lava da qui. Ok. E andiamo a minare il nostro diamante, finalmente. Quanto ce ne sarà? Qui c'è anche della dannata lava. Quindi devo stare molto attento. Però ho preso due diamanti. Mi serviva anche il diamante. Dovrei già avercelo. Però nel caso ne abbiamo anche un po' extra. Che male non fa. Quello laggiù potrebbe essere stagno. Vediamo. Tinor. Perfetto. Sì, 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 sì. È assolutamente questo. Ce ne sono un po' di pezzi qui sotto, per fortuna. Pensavo che era tipo un blocco solo isolato. Ma così non è stato. Va bene. Sembrano tutti minerali abbastanza comuni. E li abbiamo già trovati praticamente tutti. Qua c'è dell'alluminio, del ferro. Insomma. E... Oddio. Questo è petrolio. Pensavo che era un bug. Si vedeva tutto vuoto. Ok. Il punto è che ce ne serviranno davvero molti. Quindi passerò del tempo in questa caverna. Qui c'è altro stagno. E cercherò di raccogliere il più possibile. Quindi ragazzi. Per questa puntata è tutto. Una nuova missione si è posta dinanzi a noi. Dobbiamo recuperare il jamfatto. Che forse si trova su Marte. E per fare ciò dovremo craftare questo razzo. E dovremo prima prendere un sacco di minerali. Quindi ragazzi. Sono già al lavoro. E c'è uno scheletro che mi sta attaccando dalle spalle. Mannaggia a te. Stavo facendo l'outro. Il video è finito. Arrivi tardi. E come vi stavo dicendo. Per il momento è tutto. Io vi saluto. E mi metto al lavoro off camera. Nella raccolta di un po' di minerali. Quindi ragazzi. Un saluto da Eren Blaze. Ciao a tutti. Ciao a tutti.